buona giornata amici e ben trovati alla rassegna stampa di fanu tv vi auguro una buona giornata siamo pronti per leggere i giornali come tutte le mattine e vediamo subito chi è il santo di oggi passando attraverso l'almanarco del giorno eccolo qua nella grafica è un santo molto molto conosciuto san luigi orione un santo molto presente anche nella nostra realtà sacerdote fondatore della casa della divina provvidenza dove accolse tanti tanti ragazzi l'opera don orione è particolarmente attiva ancora oggi un punto di riferimento per tanti giovani che vogliono conoscere dio e costruirsi anche un domani una nuova vita don orione è un santo particolarmente attuale nato nel 1872 e morì proprio il 12 marzo del 1940 a pochi mesi prima dello scoppio dell'entrata in guerra dell'italia nella seconda guerra mondiale dunque poi momenti veramente tragici ma la sua opera continuò anche dopo la sua morte ed ora vediamo le previsioni del tempo beh un tempo così così oggi su tutte le marche nuvolosità via via sempre meno compatta salvo che i suoi monti sibillini con piovaschi pomeridiani il clima è mite con massime fino a 16 18 gradi la minima è 8 gradi sulle coste i venti ispireranno da ovest nord ovest mentre nell'entroterra da ovest sud ovest le temperature sono in calo il mare è mosso il sole è sorto alle 6 e 24 e tramonterà alle 18 09 ed ora possiamo dare un'occhiata ai giornali a partire dalla pagina fanese delle corriere adriatico eccola qua abbiamo una notizia di cronaca minacce per samuele giombi dirigente delle liceo nolfi a polloni un insegnante un uomo apprezzato sia dagli allunni che dalla comunità pubblica e che purtroppo è fatto vittima di insulti e di minacce minacce anche alla sua famiglia ho denunciato ma hanno archiviato ha dovuto mettere sconsolato veramente samuele giombi intimidazioni sui social sfogo del presidente del nolfi impossibile identificare l'autore scatta la protezione ebbene tutto quanto è iniziato alcuni mesi fa giombi e aveva soprasseduto ma poi la cosa si è ripetuta e quindi ha denunciato tanto che per qualche tempo sia lui che i suoi cari sono stati sottoposti a una pur discreta protezione ebbene è una forma di espressione subdala quella che colpisce attraverso i social attraverso internet le persone che poi rimangono vittime e così il dirigente ha deciso di rendere pubblica una situazione che reca sofferenza sia a lui che alla sua famiglia giombi ha pubblicato un post sul profilo di facebook un post personale un messaggio da cui traspare l'indignazione di un cittadino messo di fronte anche all'impotenza perché poi anche denunciando la cosa alle autorità difficilmente si arriva alla identificazione perché i responsabili del sito non rendono noto l'identità delle persone che postano simili i messaggi appunto nel social sono cominciate a fioccare attestazioni di solidarietà per quanto fatto a giombi e vicinanza a decine e decine da parte di amici colleghi semplici cittadini esponenti della politica locale un susseguirsi di abbracci virtuosi che hanno così mostrato la solidarietà al noto dirigente e vediamo anche come il resto del Carlino pubblica questa notizia preside nel mirino social il calvario di giombi il dirigente scolastico minacciato e calunniato da mesi con messaggi su telegram la sua rabbia e la solidarietà di tanti inaccettabile ricevere diffamazioni e altro da mettenti che sono impenetrabili ci dovrebbe essere una normativa che tutelia appunto la onorabilità delle persone purtroppo ancora in Italia non siamo arrivati a questo punto e c'è chi può agire impunemente l'altra notizia che ancora oggi i social i giornali evidenziano è la morte di Eliseo Minardi di Vincenzo Minardi a Bellocchi l'ultimo saluto a Minardi eccolo qua il titolo il grande costruttore aveva 83 anni da 9 aveva una malattia invalidante si svolgerà domani alle 15 nella chiesa di San Sebastiano a Bellocchi il funerale di Vincenzo Minardi conosciuto da tutti come Eliseo il noto costruttore si è spento dopo una lunga malattia che era insorta nel 2015 e lentamente insomma erano di quelle malattie invalidanti che si aggravano via via e purtroppo domenica nel pomeriggio nel tardo pomeriggio è deceduto c'è tutto un profilo dell'attività di Minardi uno dei più grandi costruttori di Fano aveva avuto il diploma di assistente edile alla scuola d'arte alla scuola d'arte a Polloni un diploma un poco meno di geometra però insomma un diploma che mette nelle condizioni coloro, gli studenti che lo ricevono di essere operativi in un cantiere Minardi aveva subito cominciato a lavorare nella ditta del padre che lui poi ha ingrandito e che poi è dilagata in città perché ha realizzato tantissime importanti lottizzazioni molte case private tanti tanti complessi i giornali ne elencano qualcuno per esempio il centro commerciale Metauro a Bellocchi e le Tag Hotel il Siri e poi le lottizzazioni che purtroppo con la crisi poi sono andate male quelle di Via 4 a Novembre quella di Fano Alta a Gimarra e altre realizzò dicevo tante tante cose ma soprattutto a parte la sua imprenditorialità era un imprenditore che conosceva bene il suo mestiere ma era anche un uomo buono così lo descrivono tanti tanti amici era un uomo buono un uomo mite un uomo al quale dal quale chi si rivolgeva a lui per avere un sostegno non usciva mai a mani vuote insomma era un uomo dal cuore molto molto tenero molto molto disponibile vediamo anche chi esprime sentimenti di cordoglio lo vediamo qua sul resto del Carlino abbiamo Fabio Tombari che appunto esprime esprime il suo il suo cordoglio abbiamo Renato Claudio Minardi ex amministratore comunale oggi segretario del Partito Democratico Vincenzo è stato un imprenditore illuminato che ha sempre collaborato con le imprese più piccole della città ed ha dimostrato grande attenzione per le associazioni culturali lo ricorda anche Roberto Taus figlio di Giovanni Taus legato a Minardi da una lunga amicizia Minardi Taus era una coppia di imprenditori che era molto nota in città ma soprattutto lo ricorda anche il figlio di Vincenzo mio padre dice Andrea era una persona umile e per questo ben voluta da tutti che ha lasciato un segno indelebile nel mondo dell'edilizia fanese e nel cuore delle persone della sua amata città di Fano insomma un imprenditore che ha operato tanto che poi purtroppo ha dovuto cedere alla crisi con tutte le conseguenze che poi ci sono determinate per quanto riguarda la sorte delle sue imprese giriamo la pagina e vediamo le altre notizie ieri si è tenuta una conferenza stampa per illustrare il nuovo lavoro che verrà rappresentato dagli studenti del liceo Torelli e del liceo Nolfi Apolloni al teatro della fortuna si tratta di una rielaborazione della Maria Risorta il noto romanzo di Giulio Grimaldi che ha tenuto banco proprio in questi giorni durante anche la festa della donna perché si è stata presentata una nuova edizione di questo romanzo proprio nel foyer del teatro della fortuna i liceali diventano attori per animare Maria Risorta c'è stata una anteprima realizzata questa estate proprio nel parterre della Darsena Borghese con un dialetto un po' così così insomma però insomma la messa in scena era veramente molto elaborata e quindi a teatro avrà anche un'atmosfera ancora più suggestiva speriamo che con il dialetto questi ragazzini se la cavino un pochino meglio beh però insomma ci sono tutte le promesse per andare a vedere questo spettacolo che sarà senza meno suggestivo io lo considero così si garantisca la continuità educativa e sportiva c'è ancora polemica per quanto riguarda la situazione della nuova piscina notiamo realizzata dalla la fondazione Carifano data in usufrutto al comune da questi poi in gestione a un'intesa tra due associazioni la pull 4.0 e la Fano Fortuna nuoto sappiamo che è stata esclusa per un problema di non accordo l'acqua fitness frequentata da ragazzi disabili e ora tutto questo è rientrato in una campagna politica in una campagna elettorale diciamo così in previsione delle prossime elezioni ed insorgono le opposizioni attualmente in essere ovvero abbiamo i progressisti che intervengono in modo particolare c'è una dura anche presa di posizione dei socialisti c'è il candidato sindaco Stefano Marchigiani che interviene insomma c'è la Lega ci sono tutti questi partiti che invitano l'amministrazione comunale a rivedere un po' questa cosa e a farsi da tramite con le società di gestione affinché anche i ragazzi dell'acqua fitness possano entrare nella piscina ASET ricicla pure i cassonetti pronti per la tariffa puntuale e in questo articolo si evidenzia l'esito di un convegno che è stato organizzato nella giornata finale di Fotonomia quel festival che ha caratterizzato la settimana fanese della cultura ebbene si è parlato di economia circolare che è un tema che si addice molto alla gestione dei rifiuti e ne hanno parlato diversi imprenditori diversi esponenti di consorzi che operano in questo sistema e c'era anche il presidente di Asset Paolo Reginelli il quale ha esposto la politica dell'azienda in merito all'economia circolare è una economia che è già in atto per quanto riguarda il riciclo di tante tante cose per esempio la moltiplicazione dei centri di raccolta differenziata per invitare i cittadini a non fare molti molti chilometri per depositare i loro rifiuti ma di farlo vicino a casa come è avvenuto a Fossombrone certo che uno forse impronese portare i rifiuti a Fano ovviamente sarebbe stato inutile e impossibile ebbene sulla raccolta dei rifiuti c'è stato anche un successo per quanto riguarda le apparecchiature elettriche un'opera di sensibilizzazione che è stata molto produttiva nelle scuole pensate sono raccolte ben due tonnellate all'anno di questi prodotti quindi sono tutti prodotti che sono una miniera di metalli che sono riciclabili e poi c'è la prospettiva di cambiare tutti i cassonetti che sono nel nostro territorio sono circa 500 nelle isole ecologiche per sostituirli con quelli muniti di lettori come è venuto a San Costanzo quindi si attende solo il via libera da parte del Consiglio Comunale perché l'ASET è pronta a fare questo investimento ha detto Reginelli bene vediamo anche un articolo di Cronaca è stato trovato un consumatore di droga probabilmente anche uno spacciatore vedremo le indagini come andranno a finire la uso per il Ramadan ha dichiarato si tratta di un 37enne che è stato arrestato a Calcinelli ha sostenuto che la droga fosse si tratta di un marocchino di 37 anni ha sostenuto che la droga fosse per uso personale che in coincidenza con il Ramadan fa sì che questo consumo aumenti sensibilmente c'è tutto il digiuno appunto del Ramadan che impone appunto i musulmani di osservare questa astinenza dai cibi ebbene però addosso gli è stata trovata della droga si tratta di quattro dosi di cocaina 900 euro in contanti probabilmente provento di spaccio poi la perquisizione dei militari dei carabinieri è seguita anche a domicilio qui sono stati trovati 11 grammi di cocaina un panetto di Ascis e poi il bilancino altri 3.000 euro in contanti insomma è stato arrestato questa questa persona vediamo ora quello che accade a San Lorenzo in campo dove l'attuale sindaco Davide Dellonti ha così rinunciato ad ogni titubanza e ha espresso in maniera chiara la sua prossima ricandidatura a sindaco del comune Dellonti corre per la terza volta me lo chiedono tanti tanti cittadini ha detto il sindaco scioglie le riserve da dieci anni un cambio di passo ebbene Dellonti tenterà il trisse in questi comuni è possibile il comune laurentino è tra quelli interessati alle elezioni amministrative dell'8-9 giugno come tanti altri comuni del nostro territorio ebbene dopo la vittoria di dieci anni fa contro Valeria Bartocci e la corsa solitaria alle passate elezioni Dellonti non aveva avversari sarà di nuovo in campo per mantenere salva la sua poltrona a Mondolfo uno degli itinerari del giubileo 2025 il 2025 è uno degli anni santi che ricorrono ogni 25 anni ebbene si sono così organizzati tanti tanti itinerari che toccano centri culturali centri artistici santuari del territorio nazionale e di uno di questi fa parte anche Mondolfo anche Mondolfo fra gli itinerari del progetto Giubileo for all Giubileo per tutti una iniziativa che raccoglie diversi cammini sul territorio italiano nati in vista dell'anno santo del 2025 per permettere a tutti di godere ovviamente non solo di un luogo di spiritualità ma anche di bellezze paesaggistiche storiche artistiche e ovviamente religiose ed ora vediamo anche la pagina di Senigallia dove la gastronomia sorge ancora alla ribalta della cronaca sperimentazioni e il premio alla carriera Cedroni e Uliassi i due grandi chef rappresentanti della gastronomia del territorio hanno riconoscimenti non stop gli chef stellati protagonisti domenica nell'ambito di due eventi di settore in Lombardia e sono dei promotori per quanto riguarda soprattutto anche l'assetto turistico del nostro territorio dove l'innogastronomia assolve un ruolo importante nel senso dell'attrazione chi vuole mangiare bene viene nel nostro territorio perché qui sa che ci sono veramente cibi genuini e prodotti secondo un'antica tradizione culinaria e poi vediamo invece come il mare ancora continui a fare paura in modo particolare per l'assetto del litorale il mare grosso spacca pure la strada e vedete con quale violenza guardate questa fotografia con quale violenza riesce a erodere l'asfalto il bitume e anche un po' di scogliere che erano poste a protezione della strada un mare veramente che riesce a avere la meglio sul cemento allarme dunque fogne paura per le case modo particolare a monte marciano il mare grosso spacca pure la strada fatti sopra luoghi subito interventi di somma urgenza ha detto il vice sindaco e vediamo anche le aperture di pesaro sul corriere adriatico vediamo come la variante di soria desti ancora delle divisioni in seno all'amministrazione comunale la maggioranza si spacca e congela il voto su soria la variante è in stand by si tratta della variante di largo tre martiri che è stata messa in stand by in attesa della riunione che è stata programmata con i residenti per domani sera non si è arrivati ieri pomeriggio ad un voto nel consiglio comunale che ha discusso questa delibera ha detto aspettiamo che si esprimano prima i cittadini poi noi prendiamo le decisioni in conseguenza piscina facchini utopia trovati altri trovare altri due milioni ebbene ci sono ancora problemi per questo impianto impianto di pesaro piscina facchini un'utopia riuscire a trovare due milioni di euro per completare tutto il complesso prima che finisca la tornata amministrativa ma ancora ormai pochi mesi e trovare d'amblè due milioni non sarà certo facile vediamo anche la telenovela della discarica di riceci Tiviroli e Paolini saranno riconvocati ancora una volta dalla commissione chi verrà riascoltato dovrà questa volta giurare è un proforma che dovrà dare ancora più forza validità alle sue dichiarazioni il deputato Simiani del partito democratico annuncia l'accelerazione dell'istruttoria alla magistratura alla relazione finale ricordiamo come alcuni membri della commissione hanno fatto un sopralluogo proprio nei giorni scorsi nel nostro territorio e poi vediamo il candidato sindaco del centrodestra di Pesaro si sapeva che insomma si pronosticava la sua nomina ora questa nomina è stata formalizzata che emozione correre per il sindaco lo ha detto Marco Lanzi che è il candidato sindaco del centrodestra a Pesaro che dovrà vedersela con chi sarà nominato del centrosinistra ancora il partito democratico è un ballo è in stallo per quanto riguarda questa nomina ufficiale dunque Marco Lanzi sarà il candidato del centrodestra vai occhi di Fratelli d'Italia dice il suo buonsenso sarà vincente ebbene Marco Lanzi è stato sempre un esponente molto molto apprezzato ha un grosso passato di sindacalista delle forze di polizia ha lottato perché la città fosse governata in modo in modo diciamo equilibrato in modo opportuno dalle polizie cercando di non di ostacolare l'ingresso della malavita ma soprattutto anche di tutelare gli agenti di polizia perché il loro è un lavoro stressante è un lavoro molto molto faticoso sono sotto organico da tanto tanto tempo ebbene queste le notizie che riguardano Pesaro e ora passiamo al resto delle Carlino abbiamo visto l'apertura sul decesso di Minardi abbiamo visto anche il problema che ha così è piovuto addosso a Samuele Giombi preside nel merino social il calvario di Giombi insomma veramente una situazione deprecabile ai danni dell'insegnante e poi Maria Risorta Maria Risorta fatta dagli studenti 30 di loro saranno sul palco e qua abbiamo invece quello che accade nel waterfront di Sassonia sembra che a lavori in corso il progetto sia da cambiare infatti non passano i grandi catamarani l'assessore Brunori dice che l'imbuto finale a ridosso di Viale Adriatico lì c'è una strettoria della strada una strettoria dove non passano gli yacht che poi devono raggiungere il porto di Fano e quindi tutto dovrà essere modificato questo probabilmente comporterà un rimando un rimando della fine dei lavori che non saranno più finiti entro giugno entro l'estate ma forse dovranno essere spostati a settembre Ilari della Lega dice l'ennesima doccia fredda insomma si poteva pensare a questo prima di iniziare i lavori la droga in macchina in casa con un pusher scattano le manette abbiamo visto come questo marocchino è stato sorpreso con la droga sia addosso che in casa e poi girando la pagina vediamo Urbino intelligenza artificiale boccia artieri nel team Agicom ha chiamato il prorettore dell'università di Urbino nel board che studia le implicazioni della nuova tecnologia ebbene Giovanni boccia artieri è stato nominato appunto dall'Agicom coordinato da Andrea Renda per studiare l'intelligenza artificiale una materia che ormai spopola un po' in tutti i campi sia nell'amministrazione comunale che nella tecnica nell'industria insomma una nuova frontiera che si apre per lo sviluppo cittadino e concludiamo la nostra rassegna stampa con la figura di Anna Finocchiaro l'ex ministro che sarà presente a Urbino venerdì 15 dove ci sarà la giornata della scuola di educazione alla politica e con questa notizia terminiamo appunto la rassegna stampa dandovi appuntamento come sempre a domani alle ore 7 grazie grazie per l'ascolto a risentirci grazie per l'ascolto